E stiamo cercando di metterci in collegamento con Fausto per il primo intervento e magari intanto se posso chiedere a Piero di intervenire. Sì, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a Roberto Morea e a tutti voi di Transformo per questo invito. Io voglio portare una testimonianza, voglio riferire qui di una iniziativa che abbiamo messo in piedi nel novembre del 2022 insieme a Roberto Morea, che è la scuola interdisciplinare e cosmopolita online. E' una serie di lezioni che si svolgono con una certa sistematicità e che nascono da una esigenza, prima la relatrice che mi ha preceduto parlava per l'appunto della cultura politica della sinistra come un elemento centrale nella formazione di una nuova elite di sinistra. Ecco, la scuola nasce da una consapevolezza, vale a dire dalla percezione, dalla certezza che si muovono due tendenze contrapposte nel mondo e convergenti, due tendenze che tendono a schiacciare la cultura contemporanea e a privarla di uno sguardo critico e globale. Da una parte assistiamo ad una specializzazione sempre più spinta, gli studiosi sanno sempre di più su sempre meno. Nelle università il fenomeno è ormai visibilissimo da tanti anni, gli studiosi sono chiusi nel loro specialismo e perdono progressivamente la visione della complessità globale dei problemi. Al tempo stesso, questa è la seconda tendenza che converge con quella già descritta, è che queste specializzazioni sono finalizzate a un unico scopo, che è lo scopo del pensiero unico, vale a dire produrre sempre di più per consumare sempre di più, consumare sempre di più per produrre sempre di più. E' la ruota del criceto che gira inutilmente. Tuttavia, come noi sappiamo, il capitalismo è ricco di contraddizioni, non tutto fila liscio. E quindi questo modo di produzione è costretto a creare sempre nuovi saperi, sempre nuovi punti di vista e quindi a puntare sulla creatività. Ricordiamo le riflessioni di Marx sul general intellect. E quindi, diciamo, nella società si esprimono tante visioni e anche critiche, per cui è molto importante metterle insieme, ricomporle per avere uno sguardo globale, come è globale il dominio sotto cui viviamo. La scuola poi vuole essere cosmopolita nella consapevolezza che la storia del mondo non l'abbiamo fatta solo noi europei, l'hanno fatta anche altri popoli. Noi certamente abbiamo prodotto sapere, arte, bellezza, emancipazione, ma anche violenza e massacri. L'Europa è stato un grandissimo agente di colonizzazione del mondo. E questo appare sempre più evidente, sempre più chiaro. Come appare evidente in maniera drammatica che il suprematismo bianco appare come una delle ragioni antropologiche, storiche, culturali, che porta la responsabilità dell'ennesimo genocidio dell'età contemporanea, quello che si sta realizzando a Gaza. E quindi a Gaza ricordo che è in atto, come dire, l'evento estremo di un lungo processo di colonizzazione da parte di Israele, colonizzazione religiosa, profetica, quindi la più intransigente, la più feroce, perché noi sappiamo che cosa accade alle religioni quando diventano dogmatiche, quando diventano fanatismo, cioè finiscono nella violenza e nel sangue, nella cancellazione del diverso. Allora, la visione eurocentrica ed eurooccidentale della storia e dei fenomeni del nostro tempo si combatte esplorando le altre culture, gli altri saperi, gli altri linguaggi, le altre religioni, le altre visioni del mondo, perché da questa conoscenza può nascere una nuova comprensione reciproca, una nuova fraternità. Noi siamo rimasti a lungo, incapsulati in una visione unilaterale della storia, centrata sul nostro dominio, falsata dalla visione di questo dominio. Quindi dobbiamo metterci in connessione con le altre culture, comprenderle e da qui fondare una nuova fraternità. Per darvi un'idea della scuola e per essere breve, vi ricordo alcune lezioni, perché voi possiate avere un'idea. Ricordandomi che queste lezioni sono registrate sul sito di Transform Italia e quindi sono disponibili in maniera naturalmente agevole, con un solo click e che costituiscono oggi, naturalmente ve ne cito solo alcune, costituiscono un patrimonio, diciamo una biblioteca, una biblioteca importante per la formazione culturale. Naturalmente sono italiano. Allora, ho iniziato io con una lezione su un'agricoltura per il futuro della terra, poi abbiamo avuto un intervento, una lezione di Gianfranco Viesti sull'autonomia differenziata, di Laura Marchetti sull'ecologia popolare, eco-marxismo, eco-femminismo. Chiaro, per favore, chiudi perché altrimenti non abbiamo più spazio per gli altri. Va bene, va bene. Comunque credo e spero di avere dato un'idea, poi ci sono anche lezioni diciamo di qualche studioso straniero sui problemi del cosiddetto. E buon lavoro. Grazie Piero, grazie anche per aver ricordato la scuola che è una delle attività di maggior valore, secondo me, che come Transform Italia stiamo contribuendo a fare. Transform è dentro molte cose. Nel corso della giornata daremo conto di tutte le iniziative e molti compagni e compagne che partecipano alle attività di Transform ne fanno parte.